Eeeh cazzo! Quello non make up pattern! Sparabombe! Siiii! Buuuu! Buuuu! Siiii! E passiamo al prossimo livello! Ciao a tutti ragazzi, sono Magatissimi 2002 e voi ritrovati in una nuova parte di Unreal Tournament! Godetevi l'azione e spero che vi piaccia! Andiamo al prossimo livello, Codex! Qui lo dobbiamo tirare 20 volte, ce ne tre! Ecco l'ascensore che fa un brutto rumore! Io qui stop! Mori? E' la giornale ideale! E' la mia attività! E' la mia attività! Che che fa? Ah si dove sta la rinnovazione? Ah mi saleggiando le bombelle! Oh no! Qui c'è l'arma spara l'amento! Mi uccide con troppo lamento! Mi scoppia la testa! Dura è forza! Oh no! E' la mia attività! E' la mia attività! Oh no! E' la mia attività! sono un angolo non mi voglio farlo non voglio sapere di morir finalmente sono quando lo spara da vento che cazzo chiusi ah si dove spari ah è un forger Oh, finalmente lo spara a bombette Oh, lo spara a bombette No Tu vuoi morirlo con quest'arma? Oh, le due sono più potenti di quelle della potenza di Roma No Scegli Niente Tu, le due sono più potenti di quelle della potenza di Roma Sì Tu, te la faccio provare, venghi attacchi Tu, 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 è finito Oh, I just slaughtered on you Oh, i just slaughtered on you Oh, i rotto volo spara a bombette Ma- 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 va bene, finalmente abbiamo preso la squadra a bombette sono tutti qua! uno due nooo cazzo spunta mori, non devi chiedere la squadra a bombette io ho un un forger si nooo cazzo di lezione io non devi sparare le squadre la sensore che fa brutto rumore io lo so cazzo oh per me l'arma potente che ammazza con me questa la chiameremo l'arma potente la sensore non c'è quando serve la sensore non c'è quando serve nooo io non me lo puoi ammazzare vedi come li ammazzo con un corpo? oh, lo squadra bombette è più forte non me lo dobbiamo nooo se mi è salito dov'è ora esco eccolo muori si è bello che un secondo prima c'è silenzio e poi ah no 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 ah dove sono? ah io non devo dire che sei di iiiiha ah ah questo è una comida vieni vieni un'altra volta non ci sei io ciao 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 mi ha fatto uscire la testa dal collo non abbiamo messo la cintura lo scuro cintura vado a essere un vingibile e immortale ok dove siete dai ci vedo una scala bombette? ci lo posso vedere solo io ci fa la bombetta? andiamo a mi lanciarazzi che incredibile nooo l'amore della sua morte glule 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 chico come a vedere se st'l punishment la vita che sei tu? si tu no vieni qua non il spagnico vieni qua non il s'pagno spara bombette per i ragazzi riuscire al pietro per un po' se a questo livello presso attenzione passiamo 5 per ma tu perchè sei rosa e poi i due vettorali sono neri mi chiamo io sono raven erano i miei problemi dobbiamo arrivare sempre a vendi guardate che nuovo tipo di scienza è molto bello che cazzo ecco perchè l'avete utilizzato non lo utilizzare più no ok guarda dove sono? questa è la più grande di quella tu la morta guarda che ti ha trovato oh la scienza non lo può utilizzare più nessuno per te ma oh super veloce è meglio di quello l'armatura scelta ma come ci sei in aria? nooo dove sei? match up match up come sei reso con me che stia per morire? no tu non puoi succedere scendi scendi non mi fanno la givera no la givera è troppo fu è troppo fu il tuo potente va qui si perdono ogni volta Cosa mi sei? Cosa tu vuoi? Aia! Ma c'è quello giallo! Che rumore era? Ci stanno bombardando e tu perché non tu vuoi far usci un sacco? Oh! Oh si! Basta! Non voglio dire che tu non mi ero giallo! Mi ero giallo! Ah! Ho due! Vediamo come non si armate! Aia! Tu vuoi diventerà? Sì? Aia! Ah! Sì! Lo stavo allorando! No! Ma che cosa c'è da questo bottone? Perché gli stai gonfiando? Cazzo tutti gli organi! Sendo cielo ha fatto una fide di davvero frutta! Aia! Mi sono altri colpi per la sparralamento! Cosa? Madonna! Ci sono rifornimenti bene! E ora muori! Aia! Aia! Dopo tutto quel rifornimento siamo morti! No! Ragazzi! Sono gonfiata! Aiuto! Tutti gli organi! Non c'entrava un macchetto! Si fa una puttafina! Si fa una puttafina! No! Non ci credo! No! 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 Non ci credo! Lo sto facendo! Stai qua! Ti devi vedere! Non ci credo! ma perchè stai festeggiando? ma si suona ma poi giriamo con quest'arma sono una capriola all'indietro entra dai ora puoi gonfiare la dentro? nooo io non c'era vabbè non mi stava mai secondo me si che è andato? vieni qua ma tu non puoi scendere dai la tua vita mi sa vieni qua come cazzola è questo? nooo prendiamo lo sparramento vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua la mia macchina vieni qua vieni qua o devi bakter vieni qua Vai, entra, entra, vai! Ciao, ciao! Io avevo visto anche questo! Con la porta di quello gonfiato e organi fuori! Bene ragazzi, per oggi è tutto! Noi ci rivediamo alla prossima parte! Ciao a tutti! No! Ragazzi sono gonfiato! E ora! Tutti gli organi!